Spostare parte della cosiddetta movida dal centro cittadino all'interno del Porto Vecchio. Il sindaco di piazza guarda i giovani e punta a creare degli spazi dedicati al tempo libero, all'intrattenimento serale, a concerti, a luoghi di ritrovo non solo per vivacizzare in futuro le varie zone dell'antico scalo, ma anche per sgravare la città dall'affollamento che talvolta si verifica in determinati punti della città. Questo sarà un luogo anche per i giovani, dobbiamo assolutamente puntare, ma sarà interessante perché non avremo solo via Torino o l'arco di Riccardo che comunque mi crea dei problemi perché mi arrivano delle lettere anche da parte dei cittadini e dai residenti. Il Porto Vecchio sarà dedicato proprio anche ai ragazzi e potremo spostare anche da piazza Unità certi concerti e fare qua in questi spazi enormi delle manifestazioni straordinarie. Come dice il sindaco sono ormai consuete le problematiche che soprattutto d'estate sfalsano l'equilibrio fra riposo e divertimento. Alcune zone sono diventate vocazioni della vita notturna del capoluogo, altre lo stanno diventando allungando quella che era solita essere una zona ristretta dove girare la sera, ma che ormai abbraccia molto di città vecchia, Borgo Teresiano, Borgo Giuseppino, Barriera Vecchia, Viale 20 settembre e altre aree ancora. Per distribuire meglio i molti giovani dunque sarà necessario fornire nuove zone ai ragazzi della città e ai tanti che provengono da fuori comune. Voglio fare proprio per i ragazzi perché abbiamo anche delle lamentele da parte dei residenti perché ormai la Movida arrivano da Udine, arrivano da Gorizia, arrivano dalla Croazia. Tu non hai idea quella caduta dei confini, arrivano su dalla Croazia, arrivano dalla Slovenia. Attenzione, dice il sindaco, non ci sarà una repressione della Movida del centro per spostarla in Portovecchio, bensì un allargamento delle zone da dedicare. Non è che noi cancelleremo la Movida da via Torino o dalla città, ci sarà anche il porto vivo in aggiunta per i giovani.